La vicenda delle catacombe di San Gennaro, il Vaticano che chiede la sua parte sul 50% della vendita dei biglietti. Mi sono subito espresso, prima con un post sul profilo Facebook Sindaco per Napoli, poi sono il primo firmatario di questo appello molto importante indirizzato al Santo Padre. Credo che le catacombe di San Gennaro vanno difese come laboratorio, un laboratorio dal basso che mette insieme comunità del territorio, ragazzi, comunità religiosa, laica, le istituzioni locali, il mondo dell'impresa, le imprese di comunità, 150 mila visitatori. Quindi evidentemente è un modello che funziona anche dal punto di vista economico e dal punto di vista del lavoro, di contrasto all'illegalità, di contrasto alla corruzione, non ci fate soffocare con questi debiti. Quando si fanno cose buone in qualche modo c'è sempre qualcuno che cerca di rallentare. Quindi vicinanza totale a questa battaglia di civiltà, di giustizia per i diritti e quindi per questo molto convintamente sono onorato di essere il primo firmatario di questo appello al Santo Padre e conoscendo la sensibilità del Santo Padre sono convinto che comprenderà quanto è importante per il nostro quartiere, per la nostra città, un laboratorio di questo tipo.